Il 12 giugno, oltre che per il rinnovo delle amministrazioni comunali, i cittadini italiani saranno chiamati a votare per il referendum sulla giustizia. Saranno consegnate 5 schede di voto che corrispondono ai diversi quesiti referendari. Essendo il referendum di tipo abrogativo, chi voterà sì ai quesiti chiederà di cancellare la norma in questione, mentre il no garantirà che la stessa resti in vigore così com'è. I 5 quesiti riguarderanno l'abolizione della legge Severino sulla incandidabilità in seguito a condanne definitive, la limitazione dello strumento delle misure cautelari, come l'arresto preventivo o i domiciliari, in caso di ripetizione del reato, la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, le norme per l'elezione del Consiglio Superiore della Magistratura, la valutazione dei magistrati da parte di avvocati e professori universitari. I partiti sono divisi tra il fronte del sì e del no. Tra i primi, la Lega, che ha portato avanti le istanze del referendum, organizzando banchini e sit-in. Siamo contenti che il 12 giugno si vada finalmente, gli italiani si possano esprimere, ci siamo lamentati anche dal disinteresse che c'è su questo referendum, per cui abbiamo cercato di sensibilizzare sia il servizio pubblico ma tutta l'opinione pubblica sull'importanza di andare a votare. Per noi sono 5 sì chiari e forti e speriamo che venga raggiunto il quorum in modo tale si possa dare una spinta dal basso a riforme che riguardano la giustizia che un pezzo della riforma cartabia dovrebbe dare una risposta ma noi abbiamo sempre, pur avendola votato, giudicato non particolarmente coraggiosa e che non affrontava i problemi di fondo della giustizia italiana. Rimane sempre un crucio che io ho oramai in 25 anni di attività politica c'è la responsabilità civile dei magistrati che è una chimera a cui anche questa volta la consulta ci ha negato la possibilità di fare un referendum sopra. Tra i contrari ai quesiti proposti dal referendum invece il Partito Democratico. Penso che la legge Severino in alcuni suoi punti vada cambiata soprattutto laddove prevede la sospensione degli amministratori locali in caso di condanne non definitive ma se mi viene detto che oltre a questo bisogna anche togliere dal campo come propone il referendum la decadenza o la incandidabilità di chi ha riportato una condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione dico che questo è sbagliatissimo e quindi penso che si debba dire no a questo referendum. Allo stesso modo sono il primo a voler fare una riflessione sulla carcerazione preventiva, ci sono stati in passato degli abusi ma intervenire come fa il referendum è sbagliato perché per esempio si indebolisce la lotta alla mafia prevedendo che la reiterazione del reato anche per reati gravissimi non è più un presupposto per la custodia cautelare in carcere. Penso che la riforma cartabia che sugli altri tre quesiti si sovrappone sostanzialmente vada nella direzione giusta sui due più politicamente rilevanti non ho dubbi, dico no.